Noi non partecipiamo alla cabina di reggio, confermiamo la linea, siamo disponibilissime a incontrarci quando vuole il governo secondo i canoni della legalità ordinaria e costituzionale, quindi quando vogliono, dove vogliono, noi ci siamo, ci incontriamo, portiamo il piano. Per adesso noi stiamo discutendo del piano a Napoli, l'abbiamo anche illustrato in più sedi, lo trasmetteremo nuovamente nelle sedi istituzionali, quindi per le vie ordinarie noi ci siamo, per le forzature, gli espropri, le violazioni di legge non solo non ci siamo ma li denunciamo, è giusto che sia.